Alla disperazione della città per la mancata iscrizione del Taranto al campionato partecipa anche il sindaco di Taranto, Ezio Stefano, un doloroso epilogo al quale è necessario far seguire ora un'immediata reazione. Resta il nome di una città, Taranto e i suoi colori. Ripartiamo da questi per riportare il nostro calcio nel professionismo. Sono le parole del primo cittadino. La mancata iscrizione della S Taranto al campionato di Lega Pro prosegue, mi rammarica fortemente, ma bisogna reagire subito e mettersi al lavoro per dare un futuro al nostro calcio. Taranto, dice Stefano, ha già dimostrato di essere in grado di rimboccarsi le maniche, di sapere essere umile e laboriosa, di riuscire a ricostruire sulle macerie. In cinque anni, continua il sindaco, ho visto i sacrifici di una città che è stata in grado di rimettersi in piedi dopo il più grande dissesto della storia italiana, ora che il peggio è alle spalle e il miglioramento della qualità della vita cittadina passa anche dallo sport. Per questo, va avanti, siamo pronti ad aprire già da lunedì una fase di ascolto e ricerca che ci auspichiamo possa condurre il calcio ad un progetto solido, credibile, capace di reggersi sulle proprie gambe nel lungo periodo. Nel corso dell'anno abbiamo sostenuto il calcio e il basket femminile portando migliaia di studenti meritevoli delle nostre scuole allo Iacovone e al Palamazzola, con ingressi premio a carico dell'amministrazione comunale. Avevamo già pronto il nulla osta per l'utilizzo dello stadio Iacovone per favorire l'iscrizione in Lega Pro della S Taranto anche a fronte delle difficoltà emerse. Ora, rilancia Stefano, siamo pronti a ricevere le istanze di quanti vorranno dare un futuro al calcio cittadino, preferibilmente già in Serie D, ed affrontare questa fase con attenzione, trasparenza e partecipazione, dando ascolto alle nascenti realtà del tifo partecipato come Fondazione Taras. Va da sé che lo sport cittadino non si esaurisce nel solo campo di calcio. Presteremo attenzione anche alle legittime istanze del plurititolato Crash Basket, tenendo comunque presente che l'amministrazione comunale può essere solo uno degli attori di un processo di rinascita e rafforzamento dello sport cittadino, Palazzo di Città non può da solo, conclude Stefano, far fronte a tutte le difficoltà che esso affronta in una città sofferente anche su altri fronti.